Se glielo avevo detto? La ucciderò con un cucchiaio sforzo. E se non ho voglia di scherzare... Non si muova! Mamma mia, la tazza. Un po' secco, ancora. Questa non me la rubi. È tutto quello che ho. Sono pochi spiccioli. Mediato il barattolo. No. Il barattolo, coraggio. Vida. Vida la pilota. Me serve qualcosa altro? No. Seguro. Ora voglio parlare con lei. Mia moglie è molto malata. Lo so. Vorrei andare a biglietta. Avanti. Sta dormendo. Sta dormendo. Glielo ho detto. Chi è? Che fa? Sono venuto qui per aiutarla. Forse ci siamo già visti da qualche parte. Non credo. Sì, lei è uno dell'assistenza. Ho fatto domanda stamattina. Ah, sì? Sono sicuro che le daranno un sussidio. Stia tranquillo. Sì, le cose purtroppo vanno male. Mi perdoni se non l'ho sentita bussare. Ma ero agitatissimo. Stavo chiamando il dottore per mia moglie. Sarà chi a minuti. Io non avrei mai creduto che l'aiuto potesse essere immediato. A volte viene prima di quello che uno crede. Le chiedo scusa, ma non ho afferrato il suo nome. Ah, me ne aveva dimenticato. Il fatto è che ho portato con me un piccolo pezzo di carta che dovrei leggerla. Ma è una specie di cerimonia. Riguardo al nome. Nella misura in cui è possibile identificarmi, ho porto inequivocabilmente il nome di Alexander Levine. 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 Ma è ebreo per caso? Tutta la mia vita lo sono stato. È di buon grado. Perché adesso non lo è più? Mi lasci leggere, per favore. Sono stato recentemente reincarnato in un angelo. Scusi, non che cosa? Rileggo. Sono stato recentemente reincarnato in un angelo. È dell'assistenza questa comunicazione? No. Da quando un misciuga del signore viene dall'assistenza? Io provengo da Dio. Lui è un misciuga? In quanto tale, quindi, io ti offro la mia disinteressata assistenza, visto che offrire il compito che mi hanno dato. La mia abilità si pone al tuo servizio. Ah, adesso credo di aver capito. Firmerò il foglio immediatamente. No, 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 no. Non c'è nessun foglio da firmare, mi dici. Tutto quello che deve fare è ascoltare. Dio, Dio.